L'annuncio era arrivato la scorsa settimana dopo l'ennesima aggressione del branco ai danni di un uomo con il suo bambino all'interno del parco di Montelungo. In quell'occasione l'amministrazione aveva annunciato la volontà di risolvere il problema dei randaggi cambiando il metodo di accalappiamento. Per questo motivo si era rivolta a una ditta specializzata di Catania che si occupa di cattura attraverso la tele narcosi. Questa mattina gli operatori alla ditta hanno effettuato un primo sopralluogo nelle aree più a rischio per la presenza di randaggi che si spostano in più branchi e che anche nelle ultime settimane hanno più volte tentato di aggredire passanti e residenti delle zone limitrofe. Insieme agli operatori c'erano i tecnici comunali del settore ambiente, l'assessore Giuseppe Licata e il presidente del Consiglio, Salvatore Sammito. Oggi abbiamo iniziato a fare quello che ci eravamo prefissati attraverso l'impegno di una nuova ditta che attraverso la tele narcosi provvederà, speriamo, ad accalappiare prima possibile questi gruppi di cani randaggi. Anche per comunicarle ai cittadini, siamo stati in via Fontana Rossa, presso lo stadio Enrico Mattei, quindi anche lì c'è un gruppo di cani randaggi. Abbiamo raccolto gli indizi che i residenti ci hanno dato, siamo stati in via Barbabianca, in via Sisifo e siamo stati anche alle mura Timolontè. Quello che stiamo facendo in questo momento sono dei sopralluoghi, delle perlustrazioni, raccogliamo gli indizi, poi ci saranno dei sopralluoghi speriamo più efficienti con l'accalappiamento il pomeriggio perché alle 19.30 abbiamo capito che lo stanziamento dei cani ci sarà proprio in quegli orari dove c'è più fresco. E noi oggi quello che vogliamo fare capire è che l'amministrazione sta facendo il possibile per poter eliminare questo problema. Il sopralluogo si è spostato a Montelungo e nell'area delle mura Timolontè che comunque, come garantisce sia la direzione del parco che l'amministrazione, quest'estate dovrebbero essere regolarmente aperte per gli eventi e ai turisti.